Siete amanti delle Alfa e volete far sentire il suo corrisportivo? Un sound pieno e corposo? Seguitici nel video e vedete cosa abbiamo fatto. Qui abbiamo un Alfa, un Alfa Romeo Giulia, la versione 2000 Q4, quella con 280 cavalli, quindi la versione, diciamo una delle versioni più potenti e senza che vada chiaramente la versione quadrifoglio che è una Ferrari travestita da Alfa, mettiamola così. Quindi questa rimane una delle versioni più potenti, benzina, ovviamente come spesso accade soprattutto sulle Alfa ma in generale su tutte le vetture di intonazione sportiva, una delle prime cose che ci chiedono i nostri clienti, al di là di un discorso di potenziamento, motore, di ottimizzazione della centralina, è sempre il discorso del sound. Quindi come già più volte ripetuto, quello che noi consigliamo ai clienti è realizzare uno scarico, quantomeno un terminale, principalmente sportivo ma omologato, in maniera tale che per qualunque controllo, sia durante le revisioni che per controlli durante la circolazione in strada delle forze dell'ordine, voi non abbiate problemi, esibite la card che viene fornita e il vostro scarico risulta completamente omologato. Di solito consigliamo di abbinare al terminale, adesso dopo vediamo, di abbinare al terminale anche un tubo centrale in maniera tale da avere un pochino più di, un risultato un pochino migliore. Allora in questo caso partiamo sempre come al solito dalla situazione stock, questo è il centrale che già non ha il silenziatore centrale però ha un determinato diametro e questo è il terminale con un, come dire, un volume, che poi è questo, un volume del silenziatore abbastanza corposo. Come al solito abbiamo optato per il marchio Ragazzon, parliamo dal terminale, questo è, se noi lo andiamo a paragonare, più o meno della metà dell'essenziatore di serie, quindi ovviamente omologato, qua ci sono le stampigliature dei numeri, questo terminale qui è fatto in maniera specifica, avendo queste due curve si va a inserire nei due terminali che abbiamo lasciato, che sono quelli di serie che sono belli, quindi analogamente a quello di serie, diciamo l'uscita non cambia, quindi esteticamente dall'esterno non cambia, quello che cambia ovviamente è un discorso di sound. Il fatto di aver cambiato anche il tubo centrale, che poi è questo, questo qui è il terminale, qua si va ad aggiuntare sul centrale, come vedete, è difficile dall'immagine, comunque ve lo posso garantire io, è più grosso come diametro e quindi l'insieme del terminale più centrale, oltre a un discorso di sound, dovrebbe garantire qualche cosa a livello di potenza in più, ovviamente questo sempre considerando il fatto di rimappare la centralina in maniera tale da modificare le pressioni e avere, diciamo, un risultato in termini di coppia potenza sicuramente migliore. Quindi, dopo tiriamo giù la macchina dal ponte e sentiamo il risultato finale. Questo per quanto riguarda la parte sound. La parte, diciamo, successiva dei lavori, in sostanza, è completare quello che dicevo prima, quindi agire sulla centralina elettronica per avere più coppia e più potenza. Una macchina di questo genere, che parte con 280 cavalli, senza fare, diciamo, mappature estreme o esagerate, diciamo che i suoi 30-35 cavalli e più o meno una 50-55 Nm di coppia in più, li riusciamo a garantire in piena sicurezza e in piena tranquillità. Oltre al fatto di avere la macchina più scattante ai medi e ai bassi, la macchina a velocità costante consumerà meno e anche questo, visto appunto come stanno andando le cose, come stanno lievitando i prezzi della benzina, sicuramente è un aspetto molto positivo. Altra cosa che abbiamo concordato col cliente è ritoccare l'impianto frenante. Adesso si vede meglio sul posteriore, piuttosto che sul... comunque dobbiamo cambiare anteriore e posteriore. Il posteriore vedete com'è rigato, com'è proprio completamente rovinato, l'ho già fatto vedere tante volte, anche in questo caso purtroppo non si vede perché chiaramente bisogna spostare la razza del cerchio. La pastiglia è al limite e sta mangiando il disco, lo si vede da qua, quindi questo disco qua è sicuramente da cambiare, le pastiglie ovviamente lo sono tanto quanto. Sull'anteriore la situazione non è così drammatica, ma comunque anche qui diciamo c'è uno scalino, la pastiglia sicuramente non è consumata come il posteriore. Ecco, diciamo che una forse delle pecche di questo modello è che non ha un impianto frenante Brembo con un disco maggiorato, quindi ha un disco adeguato alla potenza della macchina, però non la versione con l'upgrade, con un diametro maggiore. Noi chiaramente consigliamo al cliente di tenere, anche per un discorso di costi, di tenere la pinza, che comunque è un quattro pompanti, di tenere la pinza quella di serie, di non andare a cambiare il diametro, ma di andare a cambiare quelli che sono i materiali frenanti, quindi dischi dell'ABC, le abbiamo fatti vedere già tante volte, forati e baffati e pastiglie con la mescola gialla. Adesso se volete vi faccio vedere, li prelevo da un'altra macchina, giusto per farvi vedere che cosa intendiamo. Questo è un disco sportivo, chiaramente questo andrà sulla mini sulla quale stiamo lavorando, in quel caso il diametro sarà maggiore, ma comunque la sagoma esterna sarà esattamente uguale, quindi i baffi e le puntature che non vanno a indebolire la struttura del disco. Per le pastiglie di solito abbiniamo le pastiglie mescola gialla, sempre ovviamente dell'ABC, che sono pastiglie più performanti rispetto alle originali, in maniera tale da sviluppare un calore maggiore, per poter accorciare la frenata ovviamente bisogna mettere una pastiglia più dura. Per mettere una pastiglia più dura dobbiamo avere un disco temperato che sopporti un calore maggiore, quindi questo abbinamento, l'abbiamo già provato su moltissime vetture più o meno performanti, è l'abbinamento migliore che si possa avere. Le pastiglie sostanzialmente sono queste. Quindi ovviamente stessa dimensione, stessa sagoma di quelle originali ma con una mescola ovviamente diversa. Ok, l'ABC propone 5 mescole diverse e quando noi andiamo ad accoppiare il disco sportivo quella che normalmente suggeriamo è la mescola gialla, in maniera tale da avere una pastiglia sportiva ma comunque per utilizzo stradale, questa è l'accoppiata che normalmente va bene. Poi ci sono alcuni clienti che utilizzano la macchina in pista, allora a questo punto si va a prendere un tipo di mescola diversa, ma qua stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Con l'impianto di scarico montato, purtroppo come al solito, l'ho già aspirato tante volte è difficile farvi sentire la versione prima e la versione dopo per una questione proprio di tempi. Ecco, come vi dicevo già così, il tono, il timbro è cambiato completamente adesso purtroppo non abbiamo potuto, però chi ha una macchina come questa sa esattamente il tipo di sound che ha la macchina stock, la differenza appunto è quella che avete sentito quindi direi sicuramente un sound più pieno, più sportivo, però comunque sempre nella norma quindi sempre dentro nei 95 decibel in maniera tale che rimane sempre un discorso sportivo omologato. Io direi che anche per questa Giulia Q4 è tutto, per qualunque informazione vi potete contattare in sede allo 027383175, consultate il sito www.9milagiri.it soprattutto nella sezione archivi e elaborazioni, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto alla prossima!